La manutenzione del verde pubblico affidata ad Aset ha dato buoni frutti. Abbiamo passato la notte, dice scherzosamente il presidente Reginelli, commentando le performance positive dell'azienda in un servizio che per lei era tutta una scommessa. Nuove assunzioni ed un piano quadriennale che consenta di mettere a regime ordinario gli interventi sugli oltre 12.000 piante del comune con l'obiettivo di eliminare le fasi emergenziali e di programmare cicli di interventi continuativi. Alla vigilia della ripartenza delle operazioni di potatura a partire dal mese di ottobre l'azienda traccia un bilancio positivo anche degli sfalci e del taglio erba che invece in passato tante rimostranze aveva tirato sull'amministrazione, colpevole di non offrire un'immagine corretta e qualificante della città ai tanti turisti e visitatori in visita. C'era un'area ben delimitata che si chiamava Green Zone che è quella nella quale ci siamo anche impegnati di più perché era quella che dovevamo presentare più attenzione sia per la questione turistica che per il decoro appunto cittadino. Abbiamo avuto dei riscontri estremamente positivi sia per quanto riguarda le potature che abbiamo fatto sia per quanto riguarda la manutenzione del verde quindi gli sfalci. È un percorso che stiamo ancora percorrendo nel senso che ancora non è finito il periodo quindi dovremo fare altri sfalci perché le temperature, l'acqua chiaramente non fa altro che provvedere alla ricrescita dell'erba e quindi ad una maggior manutenzione. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto però riteniamo che il bello debba ancora venire. AZ sta anche affrontando in questo fine estate una fase delicata di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi aziendali per meglio efficientarsi sul maggior business aziendale ovvero la raccolta differenziata ed il servizio idrico aumentando gli spazi di raccolta e creando un unico deposito mezzi. Originalmente abbiamo tuttora di nostra proprietà la sede di via Mattei quindi lì noi porteremo tutti i mezzi che ci sono in questo momento in via Le Madonna Ponte ok da lì porteremo tutti i mezzi e da lì faremo partire la mattina gli operai. Questo cosa comporta? Comporta intanto il fatto che bisogna in qualche modo adeguare e creare nuovi spazi per gli operai che partono le docce, i bagni e quant'altro. Abbiamo mantenuto su via Mattei i servizi che secondo noi erano più importanti per le operazioni operative quindi c'è il servizio dell'igiene urbana, c'è il servizio degli accertatori, c'è la qualità, c'è la sicurezza. A partire da domani poi l'ufficio clienti di via Fanella verrà chiuso per poi riaprire lunedì 9 settembre nella nuova sede di via Eunaudi, zona industriale di Bellocchi, di Fano a pochi metri dalla sede della Saipem. Domani via Fanella chiude, apre via Eunaudi 1 che è la parte, è il palazzo che sta a fronte dell'UC Cinema. Ci sono tre piani, il primo piano è quello dovuto ai rapporti con i cittadini, il resto sono dei reparti amministrativi. Quando sarà operativo per il pubblico? Da lunedì prossimo siamo operativi per il pubblico con i medesimi orari e le medesime condizioni che trovate su via Fanella.